Oggi siamo in compagnia di Sasha Gulic, ICT Director di Cattella SPA, realtà che opera nel mercato del food service. Benvenuto Sasha. Grazie del benvenuto e grazie per questa opportunità. Bene, insieme a Giandomenico Baita abbiamo visto come Cattella ha deciso di creare un nuovo canale di vendita e di comunicazione per i propri clienti che si affianca alla forza vendita. Quali sono state le esigenze che hanno spinto una realtà come Cattella ad investire in questo nuovo progetto di e-commerce B2B, l'e-shop Cattella? Diciamo che l'esigenza principale è quella di stare vicino al cliente, quindi offrire al cliente tutta una serie di servizi. L'altra esigenza principale è sicuramente quella di recuperare del tempo. Che cosa vuol dire recuperare del tempo? Beh, attualmente la maggior parte del tempo viene spesa sul racconto alle ordine. Per cui ci sono degli esempi abbastanza importanti. Io ho degli agenti che fanno 40, 50, 70 ordini al giorno. Ora, se proviamo a immaginare cosa vuol dire 70 ordini al giorno, vuol dire veramente tanti, perché parto alle sedi al mattino, vado al primo cliente, mi fermo, parcheggio, entro, l'ordine, esco, trasmetto, entro in macchina, quindi è un'attività pesante, per cui farli 70 io non so come farlo. Quindi cercare di recuperare un po' di questo tempo, sia dei clienti che magari potranno essere più facilitati nell'inserire l'ordine durante l'arco della giornata, con tutta calma, e recuperare del tempo per un nostro agente che potrebbe eventualmente raccogliere l'ordine, presentare eventuali prodotti nuovi, le offerte e quant'altro, ecco, questo potrebbe essere un buon obiettivo, insomma. Questo è uno degli obiettivi principali. Quali sono le sfide dal punto di vista tecnologico? Le sfide ovviamente sono parecchie, nel senso che un portale B2B è un portale abbastanza semplice dal punto di vista del funzionamento, nel senso che c'è una raccolta degli ordini. Quello che è importante sono i servizi aggiuntivi, quindi per esempio servizi offline. Offline cosa significa? Nel senso che un cliente può fare gli ordini anche in tutti quelli posti dove il segnale non c'è, quindi il segnale Wi-Fi non c'è, non c'è una copertura radio, ok? Quindi frigorifero, cambusa, tutti quelli posti dove purtroppo viene tenuta la merce, per ovvi motivi, ma dove il segnale non c'è. Altra cosa importante potrebbe essere un CRM, quindi una specie di ticketing, dove il cliente ha fatto una serie di segnalazioni e ha un contatto diretto con l'agente in qualsiasi momento e anche con l'azienda. L'altra cosa potrebbe essere sicuramente il tracking dell'ordine, quindi sapere dove si trova la mia merce e quando verrà consigliata. Bene, quindi stiamo vivendo, stiamo assistendo a una evoluzione per il mercato del food service e che passa attraverso l'educazione del mercato alla digitalizzazione. La ringrazio. Grazie per questa opportunità. Grazie a lei per la disponibilità. Alla prossima.